Allora, iniziamo questa nuova puntata di quasi pomeriggio norma con il nostro Angelo Campanozzi. Che Angelo Campanozzi, ragazzi, credeteci, è un fenomeno che abbiamo scoperto. È vero, è vero, lui è fantastico. Ma è proprio bravo, perché Angelo Campanozzi ha dei tempi che sono micidiai, però ha cannone. È fantasioso. Ma non solo, ha un'inventiva di quelle proprio spettacolari, ma è proprio grandissimo, un genio. Poi con questa sua comunicazione, non senso, non verbale, riesce a essere trasversale e diagonale per poter andare a cogliere tutte quante le persone. Quindi noi lanciamo il nostro Angelo Campanozzi. Però mi devi far parlare. Ho capito, però tu non sei in grado di articolare due pensieri in italiano, fallo fare a me. Ma sì, ma fallo fare a me che ne ho ben donde, Carlo. Tu lo presenti? Lo presento nel modo in cui merita di essere presentato Angelo Campanozzi. Presentazione articolata? Vai, sì, è possibile avere un sottofondo, un tappet violino. Non c'è, poi inciampo. Faccio, vado. Signori, signori. È il channel. Eh? È il channel. Questo è tutto. Questo è tutto. Surreal channel. È il channel. Ecco.